Propriamente la società, se li prende, può avere anche ragione, non è un problema, nel senso che non è un mio pensiero. Pensiero che la partita, per me abbiamo iniziato pure bene, abbiamo preso un gol strano che è sempre nata la palla ad andare ad incrocio. Il secondo gol non si è capito bene se è persa la palla, se uno è andato in porta. Però nel primo tempo per me è un risultato un po' bugiardo, poi nel secondo tempo siamo un po' sbragati, ci siamo allungati, abbiamo lasciato gli spazi che di solito non lasciamo e poi è andata male. Però io credo che il primo tempo non è stato fatto così male, puniti più di quello che hanno creato loro. Il primo tempo allo sbragatoio ci siamo caricati, abbiamo cercato di rincuorarci perché comunque la squadra ci aveva messo il cuore per recuperarla. Abbiamo preso una traversa, abbiamo avuto qualche occasione, perciò la squadra ha reagito. Per me magari un episodio al secondo tempo che poteva cambiare l'inerzia della partita, poi invece è successo che abbiamo preso un altro gol, ci siamo sfaldati un pochino, ci siamo entrati con facilità. In questo momento dobbiamo per me recuperare dei giocatori al 100%, oggi chi è entrato aveva magari poco nelle gambe, tanti hanno giocato tanto come Roden, lo ripeto, ma in questo momento magari per caratteristiche che ha, se lo leviamo magari la fase offensiva siamo un pochino non così buoni, e perciò cosa dico ai tifosi che ci dispiace, che chiediamo scusa per una partita fatta così per il secondo tempo, però c'è gente responsabile, io parlo sempre di giocatori, i giocatori sono gente responsabile che ci tiene a questa squadra.